ciao a tutti bassi dai presser wine studios di milano per parlare brevemente di compressione vederla un attimo in azione quest'oggi lavoriamo su logic col iniziamo col compressore standard quello bundled di logic che non è un gran compressore però abbastanza versatile e comunque ci permette di vedere chiaramente quelle che sono le caratteristiche di un compressore base per descrivere un compressore e il suo effetto sul suono diciamo che il suo il suo compito è quello di limitare il range l'estensione dinamica di un suono in ingresso quindi noi settando una soglia di ingresso che questa è la nostra threshold superata la soglia il segnale in base al rapporto alla ratio che noi assegniamo e in base ovviamente all'attacco e al rilascio che utilizziamo nel momento in cui questo compressore agisce viene limitato appunto in base alla compressione ad esempio possiamo lavorare i settaggi più standard per partire sono di solito 2 a 1 4 a 1 a seconda del tipo di materiale su cui stiamo lavorando e il tipo di compressione che stiamo facendo in questo caso ho recuperato una sessione di un pezzo r&b una free session che si trova online e ho chiuso la maggior parte delle tracce di questa canzone che è stata registrata in tempo reale quindi tutti cantano e suonano assieme sentiamo un attimo cosa succede con la voce principale della cantante ecco un classico esempio in cui vogliamo utilizzare la compressione in questo caso è sulla voce perché come potete anche vedere proprio dalla forma d'onda la nostra voce va e viene un po perché probabilmente la cantante si è allontanata e avvicinata dal microfono in questa live performance e quindi le nostre due opzioni sono o di regolarci la mano quindi con un'automazione andare a selezionare i punti dove alzarla perché magari è più bassa oppure provare a vedere se il compressore in questo caso può fare al caso nostro mettiamolo un attimo in solo soprattutto questa parte del slow down come potete vedere molto accentuata proviamo a vedere un attimo settando un compressore ecco potete vedere che in questo caso quando il segnale supera di 4db la nostra soglia essendo 4 1 il rapporto viene ridotto di 3 quindi diciamo il segnale di uscita è di 1db quindi soprattutto questa parte viene ridotta molto mentre le altre parti che non superano la soglia sono non vengono toccate dal compressore considerate che chiaramente per avere un risultato ottimale dovremmo anche lavorare non solo sul rapporto ma anche sull'attacco e rilascio ad esempio l'attacco significa che il compressore agisce se noi mettiamo un attacco di 0 millisecondi il compressore agisce subito appena il suono arriva e inizia la compressione nel caso in cui aumentiamo l'attacco lasciamo respirare il suono con queste voci sicuramente c'è bisogno di un intervento abbastanza drastico perché comunque appunto come vediamo c'è un range dinamico abbastanza ampio allo stesso modo il rilascio è il modo in cui il compressore smette di lavorare per esempio se noi mettiamo rilascio minimo vedete che l'azione del compressore finisce non appena appunto la voce va via la curva è molto più netta di azione proviamo a vedere cosa succede per esempio su un rullante ecco preciso che sulla nostra voce io avevo tagliato mi sono dimenticato di dirvelo avevo tagliato la parte bassa per agevolare la voce i rientri sulle basse frequenze quindi questo non intervento che ho fatto in precedenza quindi c'era effettivamente un effetto sulla voce volevo dirlo per chiarezza mentre invece come potete sentire il nostro rullante contiene anche tutti gli altri elementi il microfono ovviamente riprende anche gli altri elementi della batteria in questo caso proviamo a lasciarli invariati ci sono chiaramente vari tipi di compressori noi possiamo usare il compressore di logic giusto per capire che tipo di intervento può avere su questo rullante anche se forse è il caso di usarlo un altro ecco potete già sentire come agisce il compressore se noi sostanzialmente quando si tratta di parti ritmiche o di voler tirare fuori la pacca diciamo il colpo del rullante il consiglio chiaramente di lasciare un attacco un po morbido in modo da lasciare che il transiente cioè il punto in cui avviene l'attacco dell'elemento ritmico in questo caso il nostro snare possa respirare e il compressore agisca subito dopo quindi solitamente per questo tipo di intervento si tende a usare un attacco morbido è un rilascio molto veloce come del resto si usa fare di solito sui bass compressor quando si mette il compressore diciamo sul master di una sessione poi lo vedremo in un'altra in un altro tutorial ecco potete sentire che il rullante guadagna nell'attacco e poi appunto ci sono come vi dicevo dei compressori come per esempio questa è un'emulazione dell'1176 questa è quella della universal audio qua lavora al contrario in realtà è uno dei compressori con dei settaggi un po particolari in questo caso la release rapida è dall'altra parte quindi la mettiamo a 7 in questo caso con una razio di 8 a 1 sentite poi anche qua possiamo lavorare sull'attacco sentite così l'attacco corto smorzerà il nostro rullante più ammorbidiamo l'attacco ovviamente poi per ogni situazione c'è il compressore giusto magari nei prossimi tutorial andremo a vedere anche cosa succede cambiando i compressori esistono dei plug in come ultima cosa che vi dico in questo mini tutorial sulla compressione che si occupano un po di fare diciamo tutto il lavoro sporco da soli come per esempio l'infamous cla della waves che è un diciamo un tutto tutt'uno per la compressione della voce e anche di altri elementi in questo caso guardiamo il vocals che è dedicato alla compressione delle voci ha dei preset diciamo già creati per ottenere un'ottimizzazione di quello che potrebbe essere il lavoro di mettere assieme magari più compressori un equalizzatore in questo caso abbiamo anche un riverber un delay eccetera il risultato chiaramente è ottimo e in molti casi come per esempio quando si deve ottenere un risultato aggressivo come può essere quello su delle strofe rap e magari non su dei cantati raffinati solo morbidi o delle ballate può essere un ottimo tool per il mix o può essere un buon complemento considerate che appunto quando si invece si deve trattare degli elementi un po più appunto con un range dinamico un po più delicato è il caso di fare un po di prove provare un po di compressori e vedere quella che è la soluzione migliore per voi come al solito confrontiamoci io vi ho detto quello che so più o meno nelle prossime nelle prossime puntate dei tutorial sulla compressione andremo a vedere anche tutte quelle che sono le derivazioni della compressione come per esempio la compressione parallela la compressione side chain o anche la compressione multibanda quindi per questo siamo fuori ci vediamo alla prossima ciao ciao